Antonio, questa mattina non ci incontriamo nella redazione neanche per un tuo video, ma sono venuto su tua richiesta qui nella sede dell'ex azienda forestale, nei locali dell'ex ospedale, perché sabato scorso tu hai visto un video di alcuni ragazzi che parlavano del boschetto di Fondacazzo, questi ragazzi si lamentavano del fatto che avevano programmato la Pasquetta, e quindi prima della Pasquetta ha programmato la pulizia. C'è qualcosa che tu vuoi chiarire? Di cosa si tratta? Si tratta di questo, questi ragazzi sono venuti a chiedere lumi, a chiedere ospitalità e avere appoggio. Noi non solo lo abbiamo dato, lo garantiamo perché da decenni è nostro compito aprire e aprirci alle varie componenti della società civile, associazioni sportive, scout, scuole, figurati se mettevamo il carro davanti ai buoi a questi ragazzi. Cosa volevano? Volevano la fruizione della zona di Fondacazzo, che è stata chiusa sei anni fa da noi, proprio per questioni legate a vandalismo, ad atti vandalici, che si sono prodotti più volte. Atti vandalici che hanno visto la distruzione di una cisterna che è stata addirittura presa e portata via, attraverso caduta libera arrivava l'acqua ai bagni, i bagni sono stati distrutti, devastati, e a causa di questo noi abbiamo chiuso l'aria. Scusami, mi dicevi che appunto l'aria è chiusa e che però voi su più di 10, 15 o 16, non ricordo, siti, ne gestite 13, sono aperte e 3 solamente sono chiusi. E siete ben disposti eventualmente a darla in concessione a delle associazioni che ne fanno in stanza. Quindi da parte vostra c'è la massima apertura. Lo abbiamo anche detto, siamo disposti a che voi vi prendete in gestione come associazione Fondacazzo, lo amministrate e quindi ne garantite la fruibilità. Un'altra cosa, il nostro personale è adibito esclusivamente ai servizi di manutenzione della volta boschiva. Non abbiamo quindi la vigilanza e non abbiamo nemmeno la pulizia. Quindi tutti questi attacchi che ci sono stati, polemiche, hanno avuto il sapore amaro, mi hanno lasciato un sapore amaro in bocca e anche hanno creato irritazione perché è stata messa all'esterno un'immagine che non esiste del servizio che noi portiamo in essere per la società. Ora, io sono di un avviso perché mi piace sempre smorzare le polemiche e trovare una soluzione. Io ritengo che questi ragazzi che ritengo in gamba e che hanno fatto un lavoro molto interessante e importante sabato, hanno rinvito veramente decine di sacchi neri, di spazzatura. Io quindi faccio un invito a loro. Costituitevi in un'associazione o se già l'avete venite qui, mettetevi d'accordo col dirigente, ho parlato poco fa col direttore Scibetta, ma anche con Antonio Varadia. Magari voi avete voglia di rendervi utili e partecipi alla pulizia, alla gestione del boschetto e loro saranno belletti qualora ci sono i requisiti, qualora avete i requisiti di poter gestire questo spazio. Io direi che si è creato un malineso sul nulla, magari per mancanza di informazione. Invece adesso stiamo appunto arrivando a una conclusione che ritengo sia la più donna. Io a proposito, qua c'ho il documento che tu fotograferai e manderai online a corredo di questa intervista, che è l'ordinanza che noi praticamente abbiamo emesso e che è stata convalidata dal prefetto di chiusura dell'area per motivi di ordine pubblico e di pulizia. 23 marzo 2016. Esattamente. Noi abbiamo avuto due guardie forestali che sono state attaccate, una è finita in ospedale, colpita da questi vandali proprio il lunedì di Pasqua. Di quanti anni fa? Di qualche anno fa, adesso non ricordo. Per cui c'è gente che non è molto perbene che arriva da quelle parti. Per cui noi, ripeto, siamo disponibili a che questa associazione, se vuole collaborare, collabora.